buongiorno un altro video sull'infinito e beh dell'infinito c'è veramente tanto da dire ti spaventa l'infinito più il congiuntivo e noi siamo spaventati dall'infinito e beh gli antichi sicuramente lo erano ma non solo gli antichi sentite un po che cosa diceva Borges c'è un concetto che è il corruttore l'ammattitore degli altri non parlo del male il cui limitato impero è l'etica parlo dell'infinito osservate come l'infinito è ritenuto il corruttore l'ammattitore degli altri concetti addirittura peggiore del male per quale motivo ebbene perché il male ha un impero limitato il problema dell'infinito dunque sembra proprio nel suo non essere limitato non essere limitato ebbene gli antichi infatti lo definivano con il termine apeiron che sta proprio a significare senza limiti ma ciò che è senza limiti non è completo e siccome solo ciò che è completo è perfetto deduciamo almeno deduceva pitagora che solo ciò che era finito è perfetto osserviamo con mafalda come in realtà a tutti manca qualcosa sicuramente all'infinito manca una fine ma a tutti manca qualcosa insomma il finito è completo oppure no l'infinito è completo oppure no in realtà come vedremo nel corso di questa presentazione ebbene i confini limiti tra finito e infinito tra completo e incompleto sono abbastanza labili ma tornando agli antichi ebbene osserviamo con aristotele che il numero è in realtà infinito solamente in potenza ma non in atto che intende dire bene bene dire che noi possiamo concepire un numero grande tanto quanto vogliamo ma non possiamo concepire l'infinito in sé i matematici stessi non sentono il bisogno di infinito osserva aristotele ma di una quantità più grande quanto essi vogliono ma pur sempre finita insomma l'infinito in atto sembrerebbe non esistere in realtà osserva però agostino che ritenere l'infinito in atto non esistente significa limitare in qualche modo l'oniscenza di dio infatti se così fosse allora dio non conoscerebbe a causa dell'infinità l'intero dei numeri e la sua scienza arriverebbe fino a una certa quantità numerica e ignorerebbe il resto e beh secondo agostino non neanche il più insensato la persona più insensata può fare un'affermazione del genere non possiamo limitare l'oniscenza di dio e dunque l'infinito in atto sembra esistere se non altro perché concepibile da dio ma è viceversa concepibile da noi dalle nostre limitate menti ci viene da chiederci e osserviamo infatti il cielo stellato e ci viene voglia di pensare all'infinito ma come osserva charlie brown viene anche voglia spesso di andar via perché l'infinito schiaccia sempre un po insomma l'infinito è concepibile o no dal nostro intelletto limitato sembrerebbe di no secondo gli antichi invece guardate come leopardi ribalta la prospettiva secondo leopardi infatti l'infinito viceversa è un parto della nostra immaginazione della nostra piccolezza un tempo e della nostra superbia insomma secondo leopardi esattamente il contrario noi concepiamo l'infinito senza avere prova della sua esistenza nemmeno secondo leopardi per analogia concepiamo dunque secondo leopardi l'infinito come parto quindi della nostra immaginazione in effetti ci accorgiamo che quando vediamo una serie seppur limitata ci viene naturale provare a proseguire quella serie guardate un po all'infinito insomma all'infinito come idea di ripetizione di iterazione e allora hegel identifica proprio nella ripetizione dell'iterazione infinita il simbolo del falso infinito infatti per esempio il supplizio di tantalo consiste proprio in infinita ripetizione in definita ripetizione dell'atto volto al raggiungimento di una meta illusoria il povero tantalo infatti eseguiva infinitamente l'atto di cogliere un frutto senza mai riuscirci non riusciva a nutrirsi insomma hegel vede nell'infinito l'inse smisurato oppure anche l'insaziabilità dei desideri naturali soggettivi che nel loro costante ripetersi non raggiungono mai l'ultima quiete del soddisfacimento va bene possibile qui non citare schopenhauer secondo cui la brama dura a lungo le esigenze vanno all'infinito l'appagamento invece è breve e misurato con spilorceria insomma l'idea dell'infinito come qualcosa di irraggiungibile di un appagamento mai conseguibile perché l'appagamento in realtà è breve la meta illusoria il supplizio di tantalo insomma che spesso viene confuso con un altro mito col mito di sisifo come osserva sarcasticamente thomas man nella montagna incantata nel sanatorio di davos infatti si osserva come la cura viene iterata a dismisura quando uno ha fatto cinque mesi i medici viene rifilano poi altri sei ah si dice è la tortura di tantalo si spinge si spinge quando si crede di essere in cima ecco che il dotto settembrini ribatte sarcastico brava e generosa finalmente concede al povero tantalo un diversivo per variare gli fai spingere il famoso pietrone insomma si confonde il mito di tantalo abbiamo detto prima che ripetutamente cerca di cogliere il frutto per cibarsi col mito di sisifo poverino che è costretto all'eterno a trasportare a spingere la pietra insomma è l'icona della sofferenza e guardate un po come di nuovo si ribalta la prospettiva secondo camion viceversa dobbiamo immaginare sisifo felice perché ebbene perché davanti ad un universo ormai senza padrone l'io è morto diremo con nice tale universo sisifo non appare né statile né futile ogni granello di quella pietra ogni bagliore minerale di quella montagna ammantata di notte formano da soli un mondo insomma camion invita tutti noi a cogliere nella nostra vita del mondo l'essenza la felicità il motivo di vivere insomma viverla appieno la nostra vita anche senza dio vedete come insomma si ribalta continuamente la prospettiva si passa dall'infinito in potenza all'infinito in atto e viceversa da dio alla terra a viceversa ma allora chiediamoci dal punto di vista matematico insomma l'infinito in atto esiste o no e come si definisce rispetto all'infinito in potenza rispetto cioè alla possibilità di poter contare sempre più uno ebbene la risposta la fornisce ancora una volta canto l'infinito in atto secondo canto rispecchia l'idea di perfezione di totalità completa non una quantità che può essere via via ingrandita ma quella che già di per sé più grande di ogni quantità finita non un insieme cui può sempre essere aggiunto qualche elemento bensì quello che li comprende tutti insomma canto ritiene che sia l'insieme che comprende tutti l'infinito in atto sia l'infinito proprio a confronto di quello in potenza che un infinito viceversa improprio ma se cantora quest'idea dell'infinito in atto come infinito proprio chiediamoci com'è concepibile dal punto di vista matematico beh tanto per iniziare ad esempio il simbolo dell'infinito in qualche maniera racchiude in sé un oggetto che è finito e infinito allo stesso tempo abbiamo un simbolo che è percorribile all'infinito infinite volte lo vedete una sorta di anello di mebius e poi abbiamo un numero come tanti altri è i numeri razionali ma un numero per esempio pi greco uno dei tanti numeri razionali trascendenti anche come abbiamo mostrato in un'altra presentazione ebbè è un oggetto è un numero pi greco che per ora chiude in sé l'infinito perché è costituito da infinite cifre decimali tra l'altro non predicibili pi greco insomma un numero così importante che addirittura i matematici gli hanno dedicato un giorno il cosiddetto pai dei i cui in genere si dedica una torta un pai alpi greco e poi dei che guardate un po in che giorno è stato scelto il 14 marzo per quale motivo è bene perché in inglese la data si scrive indicando prima il mese marzo che il terzo mese 3 così fa seguire il giorno 14 e poi in genere il p dei molti lo festeggiano a che ora alle 15 e a quell'ora che si fa la torta il pai e infatti 3.1415 il numero pi greco approssimato alla quarta cifra decimale in realtà di cifre decimali ne ha infinite e ci si affanna a cercare di conoscerne sempre di più un record raggiunto recentemente quello di agosto sentite un po 62.800 miliardi di cifre dopo la virgola sono state determinate dopo ben 108 giorni e 9 ore di computazione insomma il numero pi greco numero pi greco che ha un ruolo fondamentale in che cosa ebbene nel cerchio la forma perfetta la forma che viene associata ai cieli il cerchio il cerchio che interviene in un ben noto libro flatlandia di cui pure abbiamo già parlato in altri incontri in flatlandia si immagina mondo piatto dove vivono figure geometriche il triangolo che è associato alla donna appuntita e poi le diverse classi sono associate a diversi poligoni regolari con un numero di lati via via crescente finché si arriva alla classe suprema quella sacerdotale il cerchio ma si osserva nel libro come a proposito dei sacerdoti dei cerchi in realtà si sa che nessun cerchio è realmente tale ma è semplicemente un poligono con un gran numero di minuscoli lati gran numero magari infinito di minuscoli piccolissimi magari infinitesimali il grande e il piccolo che si uniscono nel cerchio cerchiamo di capire un po meglio che cosa stiamo dicendo e lo capiamo parlando del cosiddetto metodo di esaustione metodo ben antico che veniva usato per calcolare che cosa ebbe per calcolare l'area del cerchio e lo sappiamo bene l'area del cerchio che è proporzionale che cosa ebbe a pi greco a quel numero irrazionale a quel numero impertinente che ha infinite cifre decimali quindi un numero che non è noto nella sua completezza e quindi l'area del cerchio come la si può calcolare approssimandola ma approssimandola con cosa per esempio con l'area di un poligono del quale siamo in grado di calcolare l'area per esempio di un triangolo tuttavia come vedete se noi iscriviamo un triangolo in un cerchio e proviamo approssimare l'area del cerchio con l'area del triangolo bene commettiamo un notevole errore di approssimazione e allora gli antichi propongono di incrementare il numero dei lati per esempio considerare un quadrato notate come l'errore si va a ridurre e si va a ridurre via 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 che incrementiamo il numero dei lati del poligono regolare iscritto nel cerchio insomma se immaginiamo di incrementare all'infinito il numero dei lati e quindi al contempo di ridurre sempre più la lunghezza di ciascun singolo lato del poligono iscritto notiamo come l'errore che commettiamo nell'approssimare l'area del cerchio con l'area del poligono si va a ridurre sempre più al limite diventa zero stiamo parlando insomma di qualcosa che anticipa concetti di cui parleremo più approfonditamente in altri video il concetto di infinitesimo di infinitamente piccolo il concetto di integrale cioè come si va a calcolare la misura dell'area di una forma complessa tanto quanto si vuole il concetto di limite tendente all'infinito ma quello che osserviamo però in questo contesto specifico in contesto specifico di questo video è come il cerchio va a diventare un oggetto che racchiude in sé l'infinito il limite all'infinito di un poligono iscritto che ha sempre più lati a fianco al concetto l'abbiamo detto di infinitesimo di lati sempre più piccoli concetti questi di conciliazione del finito con l'infinito dell'infinitamente piccolo con l'infinitamente grande che abbiamo già visto nel frattale nella presentazione sui frattali ma insomma quando parliamo del metodo di esaustione abbiamo una successione di poligoni che è orientata pur nell'illimitatezza verso un fine il cerchio e quindi è difficile non vedere una sorta di ordine teleologico di cui la circonferenza circoscritta è in qualche modo la causa finale irraggiungibile una causa finale irraggiungibile identificata in un oggetto finito la forma infinita è ricevuta solo in modo finito sicché per così dire un'infinità finita siccome dio che è l'eternità non poter esser fatto fu fatto ciò che può essere più simile a dio ne consegue che ogni creatura come tale è perfetta anche se sembra meno perfetta di un'altra insomma vediamo come nel concetto di infinità finita vediamo la perfezione sia nel finito che nell'infinito insomma finalmente arriviamo ad una conciliazione dei due concetti ma non necessariamente dobbiamo invocare dio laicamente infatti ci accorgiamo come a una sua solitudine lo spazio solitudine di mare e solitudine la morte eppure tutte queste sono folla in confronto a quel punto più profondo segretezza polare che è un'anima al cospetto di se stessa infinità finita insomma ciascuno di noi anche nella sua solitudine è infinità finita grazie e arrivederci